E quella che stiamo per andare a vedere è una musica che si chiama Finto Dutti. Sì. E che significa? Sì. Noi stiamo per iniziare un viaggio nel mondo dei soldi. Pronti? Sì. E lo sapete perché? L'artista studiiamo questo e poi la creiamo. Ci siete? Sì. Allora prima di uscire il popolo, la stitura, figura. La cosa importante per gli esploratori è coltivare sempre i propri sogni e metterli e crearli e crearli nella vita. Prima di uscire questo sogno, via. Grazie. Grazie. Grazie.